Hanno respinto l'accusa di avere rapinato e picchiato un loro amico, i sangataldesi Michele Amico, 39 anni, e Giovanni Piazza, 52 anni, arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri. Quando sono comparsi davanti al Gips anti Bologna per l'interrogatorio, entrambi hanno sostenuto di avere solo dato un passaggio all'uomo, aggiungendo che quest'ultimo era completamente ubriaco. Secondo quanto sostenuto dai due indagati, la persona offesa non era nemmeno in grado di trovare la propria abitazione e quindi lo hanno lasciato nella zona dove aveva parcheggiato la sua auto, affermando che successivamente si sarebbe inventato tutte le accuse relative alla rapina e al pestaggio subito. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sulla base della denuncia della vittima, i due indagati, lo scorso 1 settembre, avevano picchiato e rapinato l'uomo rubandogli il portafogli dove custodiva i 980 euro incassati come pensione di accompagnamento per il figlio disabile. In base al racconto della vittima, i tre si stavano recando in auto a Canicattì quando Amico, alla guida della vettura, ha arrestato la marcia per poi prendere una mazza dal cofano con il quale l'uomo è stato picchiato, oltre che preso a pugni da entrambi gli indagati. E Piazza, sempre secondo l'accusa, gli aveva sfilato il portafogli per rubargli il denaro. Per questa vicenda Amico è detenuto in carcere e Piazza è agli arresti domiciliari. L'avvocato difensore Gianluca Amico presenterà ricorso al Tribunale del riesame per chiedere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP.